Salve a tutti ragazzi, ci voglio dare una notizia bomba che ho letto adesso sul sito di Virgilio che dice che il noto cantante Marco Carta ieri sera è stato arrestato insieme ad una donna di 53 anni per aver rubato 6 magliette in una grande catena di supermercato e queste magliette il prezzo salgire è intorno ai 1200 euro e continuando a leggere dice che il cantante avrebbe rimosso dalle magliette il chip attaccheggia ma si sarebbe dimenticato di togliere la placchetta flessibile ora dico io, tu guadagni e dici che sono dei miei possibili che devi andare a rubare fate voi, fate voi e ditemi cosa ne pensate di questa notizia bomba che ho dato ok? Ciao!